Salve a tutti e ben ritrovati In questo video vi spiego come poter rivedere nuovamente il Medi7 Play sui vostri dispositivi Samsung, sulle vostre TV perché a volte capita che nell'angolo basso a sinistra non esce l'opzione per poter entrare sul Medi7 Play con la freccia verso l'alto del telecomando quindi vi spiego come poter settare la televisione in maniera tale che l'opzione Medi7 Play ricompare nuovamente sull'angolo in basso a sinistra come vediamo qui, infatti se vedete lì c'è scritto Medi7 Play, apri e la freccia verso l'alto dobbiamo andare su Menu poi su Rete poi su Stato Rete poi dobbiamo andare su Impostazioni IP ovviamente ci muoviamo sul telecomando con i tasti freccia su e giù, destra e sinistra e poi confermiamo con l'ok e dobbiamo andare a mettere Impostazione DNS manualmente dopo di che dobbiamo inserire per l'appunto come serve DNS 1 1 1 1 o provare se non funziona con 1 1 1 magari 8 8 8 8 poi confermiamo ogni volta con il tasto ok scendiamo sotto e facciamo ok fatto questa operazione chiudiamo qui usciamo basta spegnere e riaccendere la tv per poi spostarci solitamente sul canale 5 dal 4 andiamo al 5 e vediamo che dopo qualche secondo comparirà per l'appunto l'opzione per poter entrare a Medi7 Play come spostato in questo momento quindi per aprire frecce verso l'alto e in questo caso si riaprirà nuovamente il nostro menu Medi7 Play vedete questi sono tutti i canali Medi7 Play che potremmo continuare a rivedere come una volta come lo solito se questo video tutorial vi è sembrato utile lasciate un bel like iscrivetevi al nostro canale e mi raccomando attivate la gambanellina ci vediamo al prossimo tutorial ciao